Ah raga, ah raga, ah raga, raga, poco da dire raga, ah raga, ah raga, come ve lo dico raga, raga, ma raga Ciao a tutti ragazzi, sono Aido e come vedete torno con un nuovo video e non so, non so bene cosa dire perché non mi è mai successo in così poco Quindi ve lo dirò subito, in realtà lo sapete, lo leggete dal titolo, quindi le mie parole sono inutili ma Triscube è sold out ed è uscito l'altro ieri, quindi è andato via più o meno in un giorno, in esattamente 29 ore E tutto ciò ha dell'incredibile, è assurdo e ve lo giuro, raga, non me lo aspettavo, è la solita frase che si dice nei video di questo tipo Ma sono sincero al 100%, non me lo aspettavo Ora vi dirò cosa succederà, ma prima è di dovere dal cuore ringraziarvi Sono serio, raga, mentre vi parlo, ho un po' magari il sorriso perché sono seriamente contento È scontato dire che senza di voi sarebbe stato impossibile? No, perché è vero, cioè l'avete preso voi, avete creduto a un oggetto che senza feedback sostanzialmente Perché a parte il mio, la mia presentazione, la mia idea, quindi sono strafelice Cioè non vedo l'ora che vi arrivi a casa ora perché di solito arrivano a casa, la gente vede Ah beh, è bello e si inizia a prendere Qua raga, bam, così subito sold out Pauroso, pauroso Sono strafelice e devo dirvi che era tutta una truffa No raga, sto scherzando, mi conoscete, ho venduto mille prodotti Quindi chiaramente questo sold out in realtà è frutto di tantissimo lavoro Di tantissimi altri progetti, di tantissime altre idee, spedizioni, lanci È un insieme di cose Però sicuramente qualcosa ha anche questo oggetto in particolare Quindi il fatto che sia proprio Triscube Per determinati motivi Ma ora vi dirò cosa succederà Prima di tutto tutti i Triscube verranno spediti Sto già iniziando Aspettatevi che vi arriverà a casa intorno a lunedì, martedì della settimana che viene Perché sono sommerso da spedizioni, perché a breve ci sono anche i campionati italiani dei rompicapo Devo spedire tantissime altre cose A parte questo, cosa sta succedendo? Questo sold out così immediato Ha portato tantissima gente a chiedermi una ristampa Quindi a dirmi Aide, producine altri, fanne altri E io mi sono trovato un attimo spiazzato Perché ho capito determinate cose solo dopo aver lanciato questo prodotto Inizialmente la mia idea era appunto fare un numero limitato Infatti ne sono stati prodotti 300 Non è un sold out di un numero esagerato Però comunque averne venduti in così poco 300 Un oggetto che non esisteva prima del lancio La gente doveva capirlo Insomma non è come vendere un oggetto qualsiasi mainstream Che sai che va Insomma qui era una scommessa Insomma ogni volta che esce un nuovo prodotto ci vuole un po' di tempo Invece qui raga immediato Mi sono arrivate appunto queste richieste E io ho dovuto un attimo ragionare E nel mio ragionare ho concluso sicuramente una cosa La prima è che le 300 persone che sono riuscite a prendere questi primi Triscube Verranno per forza premiate Infatti ho deciso di inviare ad ognuno di loro insieme a Triscube Un biglietto, un biglietto d'oro chiamiamolo Che attesta che quello che hanno in mano è appunto uno dei primi Triscube prodotti Ci saranno poi chiaramente dei ringraziamenti Insomma è un attestato che certifica completamente questa cosa Però ora mi viene questo dubbio Il dubbio di rifarne Perché mi avete fatto notare Ma poi ho anche ragionato Ho sentito tante persone Che questo è un prodotto che ha davvero tanto potenziale Perché è un gioco che si usa in due È una cosa che se hai in casa Puoi tranquillamente quando vuoi giocarci con i tuoi genitori I tuoi fratelli I tuoi amici quando vengono a casa Puoi portarlo fuori Puoi passarti il tempo durante una serata Insomma ha un potenziale incredibile È il primo cubo che si usa in due Quindi è una figata Questa cosa gasa anche me Io quando l'ho pensato Ho detto sì A me piace Però chissà se piacerà agli altri Quindi vi chiedo anche a voi Voi vorreste una produzione Vorreste averlo a casa Quelli che non l'hanno preso Vorrebbero averlo È chiaro che un po' la risposta me la state dando Però comunque devo decidere Per questo ho pensato questa cosa Ho creato un canale Telegram Che si chiama Rilascio Triscube Lo trovate anche solo scrivendo Triscube Ma comunque ve lo scrivo qui E ve lo lascio anche in descrizione E il modo più veloce per dirmi Se volete ancora dei Triscube È entrare in questo canale Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che su questo canale Se deciderò di farli In anticipo dirò la data di rilascio Così tutte le persone che sono interessate Sono sicure che questa volta Non se lo perderanno Chiaramente voi Fatemelo sapere nei commenti Aggiungetevi se volete a questo canale E vi dico già raga Che questo canale Non lo voglio usare assolutamente Per spammare Mettiamolo in chiaro Io su questo canale scriverò tre cose Il messaggio di benvenuto Che c'è già appena entrate Un messaggio dove vi confermo L'eventuale ristampa E vi dico già il giorno d'uscita E il giorno in cui vi darò In anticipo il link Per poterlo acquistare Tre messaggi Niente di più Non ho voglia di fare spam Non piace a nessuno Voglio solo che sia una cosa lì Un avviso fisso Il più veloce Per tutti quelli che vogliono Triscube Volendo anche uno che l'ha già acquistato E lo rivuole Qualunque cosa E tra l'altro ve lo dico anche Di attivare le notifiche In quel caso Cioè quel gruppo Tenetelo proprio tutto attivo Perché appunto Siccome lo spammerò Quindi non vi arriveranno Nessuna notifica Quando vi arriverà L'unica importante La leggete Quindi sì Ci sarà una campanella Un avviso di priorità Un fissaggio in alto Qualcosa c'è sicuro E basta Questo è quanto Secondo me raga Triscube Non so Io me la vedo un po' Come un oggetto Che tutti potrebbero avere in casa Da tenere lì Perché Cioè almeno io Lo vedo così E poi ditemi voi Me lo vedo Bello sia da tenere Come sovramobile Cosa da lasciare esposta Ma anche come oggetto Che effettivamente Se arriva qualcuno a casa Dici Vuoi fare una partita Vuoi vedere questo oggetto Hai mai giocato a Tris Frase classica Hai mai giocato a Tris Sì Beh ma non hai mai giocato a Tris Tridimensionale Tac Tirate fuori l'oggetto Me lo vedo un po' così E niente raga Questo è quanto Vi dico già che chiaramente La produzione non è velocissima Non posso metterci una settimana Per rifarne Se volete appunto una ristampa Io penso di riuscire a garantirvela Sicuramente per dicembre Quindi per eventuali regali di Natale O qualunque cosa Penso proprio di sì E comunque c'è il canale Apposta per tenervi aggiornati Io sono davvero contento Seriamente dal cuore E quindi concludo questo video Ringraziandovi ulteriormente Come vi ho già detto Non me lo aspettavo E nulla Noi quindi ci vediamo Regolarmente con un prossimo video Ciao a tutti